Ci sono donne, professionisti, amministratori, giovani e precari nella lista lucchese che sostiene Pippo Civati alle primarie di domenica prossima 8 dicembre per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Nella piccola sede del PD di San Concordio è stata la capolista Daniela Grossi, 43 anni, a fare da padrona di casa, al fianco degli altri candidati, Federica Pierotti, 32 anni, segretaria del Circolo Centro Storico di Lucca, Ruchi Ali Osman, 50 anni, assessore al turismo nel comune di Gallicano, Marco Ridolfi, 25 anni, segretario dei giovani democratici di Lucca. A completare la lista ci sono il professore Andrea Pertici, la via regina Francesca Chiarini, 29 anni, e il sindaco di Piazza Al Serchio, Paolo Fantoni. Il nostro è un progetto di cambiamento, ha detto Daniela Grossi, perché Pippo Civati ha un progetto diverso da tutti gli altri per tantissimi motivi. Un programma che è collettivo, è frutto di partecipazione di tutti i territori che sono coinvolti nella campagna per Pippo Civati. È un programma che tiene come punti fermi la difesa dell'ambiente, la Costituzione, ed è non è un caso che il nostro, diciamo, compagno di lista sia il professor Pertici, che ha collaborato attivamente nella stesura della mozione nella parte relativa alla Costituzione. È l'unico che propone, senza sé, senza ma, come avete visto l'altro giorno nel confronto TV, nel quale Pippo è risultato sicuramente vincente fra i tre, è l'unico che propone matrimonio per tutti, adozione, affido per tutti, senza ambiguità e senza contraddizioni. E giorno dopo giorno, mentre i sondaggi si sprecano, la corrente civatiana comincia a crederci.